Il bacio davanti all'Hotel de Ville e un'altra cinquantina di scatti di Robert Duanot, uno dei padri di quella che oggi chiameremmo Street Photo, sono esposti a Saint-Hualle-Lyon, alle porte di Lione. La mostra, per la prima volta ospitata nei locali della vecchia piscina comunale, permette di conoscere da vicino il grande fotografo, noto per una sincera rappresentazione della vita quotidiana a Parigi. Perché Robert Duanot, padre della fotografia umanista, ci è sembrato importante proporre le foto di un autore così legato all'umanità. Attraverso una cinquantina di istantanei in esposizione emerge un percorso dagli anni 30 agli anni 60 e si possono ritrovare gli scatti più conosciuti di Duanot e molti altri. E tutti ci riportano a questa grande sensibilità, alla sua maniera di cercare le foto, sempre con un grande rispetto per l'essere umano. Oltre che sull'opera di Duanot, la mostra offre uno sguardo anche su altri grandi fotografi contemporanei, dai cinesi Liu Bolin e Li Wei a Giulietta Andrea Eli, da Carol Benita a Fatima Masmus. L'esposizione resterà aperta fino al primo dicembre.